Obiettivo demolirlo entro l'estate, l'edificio dell'ex Ancora sul lungomare di Palese continua a far discutere da quando la struttura è stata data alle fiamme, si è trasformata in un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, una vera e propria discarica a cielo aperto, resa pericolosa anche dalla presenza di transenne che rendono difficoltoso anche il transito di pedoni e ciclisti. Ma adesso a rassicurare i cittadini stanchi di questa situazione di degrado arrivano le rassicurazioni del presidente del quinto municipio Vincenzo Brandi che conferma ci sono tanti problemi connessi alla realizzazione dei progetti relativi all'ex Ancora ma entro l'estate la struttura potrebbe essere abbattuta. La struttura è stata data alle fiamme due volte, a giugno del 2019, pochi giorni dopo la scadenza del bando comunale per l'affidamento e nell'ottobre del 2020, quando per spegnere le fiamme ci vuole oltre mezza giornata. Il comune e il quinto municipio avevano più volte pianificato una nuova vita per l'edificio, fiore all'occhiello della ristorazione palesina per più di un ventennio, ma il secondo incendio pare abbia spento anche ogni possibilità di recupero. Di qui la decisione di abbattere l'edificio entro la prossima estate.